A una media di 13 punti è dotto rimbalze a gara, è alto 2 metri e 4 centimetri, i tiri da 3 punti sono il suo forte e Montenegrino, ma soprattutto il nuovo acquisto dell'Enel Basket Brindisi. Parliamo di Nemanja Milosevic, un'ala che farà sicuramente la differenza nel massimo campionato italiano. Questo ragazzone di 28 anni non conosce molto dell'Italia, ma vuole portare la sua esperienza nella nostra regione. Questa esperienza brindisina sta per cominciare, che cosa gli hanno raccontato di Brindisi? Lui ha giocato l'anno scorso due partite contro Brindisi e ha grandi impressioni di Brindisi, in senso che ha visto tifosi, come funziona, la squadra è buona, le impressioni sono buone. Lui da tanto tempo che segue il pallacanestro italiano perché sta nel primo quadro in Europa e lui pensa che farà bene in questo campionato. Lui dice che le aspettative sono grandi, che lui pensa che possono fare bene in Europa quest'anno perché avranno una buona squadra. Pizza, spaghetti, sole, mare, che altro? Bel paese, belle donne.